La vostra missione, se decidete di partecipare, consiste nel diventare invisibili e aiutarmi a mettere questa sorpresa di compleanno nella stanza di Botgirl! Ma il compleanno di Botgirl non è tra sei mesi? È proprio per questo che rimarrà sorpresa! C'è andata bene! Mettiamoci al lavoro! Abbiamo in uso il sistema di sicurezza di Botgirl! Grazie! Che bella accoglienza! Lasciamole il regalo sul letto e andiamo via da qua! Che bella accoglienza! Possiamo andarcene subito, per favore? Non prima di aver consegnato questo pacchetto! Harley, forza, sbrigati! Un momento! Devo sistemare questo... Aiuto! Cavolo! Stavo per trasformarmi in una cotoletta tra il letto e il soffitto! Stavo per trasformando! Stavo per trasformando! Nascondiamoci! Sto arrivando! Prendo solo la mia butt cintura e poi possiamo uscire! Per me... Per me... Ma che sorpresa! Qualcuno mi ha lasciato un regalo! Che gentile! Abbiamo fatto una sorpresa a Botgirl! E non si è nemmeno accorta che eravamo qui! Però ora come facciamo a uscire? Oh, oh! Botgirl! Torna qui! Botgirl! Botgirl! Un altro pareggio! Di nuovo! Cosa? Basta con questi boomsonici! Chiudiamo questa storia una volta per tutte! Una gara in strada alla vecchia maniera! Niente superpoteri, solo cavalli e potenza! Adoro queste gare! Ehi, Wonder Woman, dov'è la tua moto? Non darai forfetto! Tecnologia di copertura invisibile! Grazie per aver chiuso il traffico per la gara! L'ho fatto con piacere! Purché tu e i tuoi amici manteniate la promessa e non... Mai, 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 mai e poi mai supereremo i limiti di velocità! In posizione! Preparatevi! Non è una vera gara se non partecipa anche Harley Quinn! Via! Ah, questo è quello che meriti se parcheggi in seconda fila! Quella ragazza mi fa letteralmente volare! Due raffinatrici! Le prendo io! No, ci penso io! Dove sono andate? Eccole! Le ho provate! Le ho già in pugno! Gemelle doppio azzardo! Benvenute alla fine della mia corda! Non se prima riesco a fare un gioco di parole relativo alla mia arma! Non mi viene niente con la rete! Sì! Niente superpoteri! Anche tu non potresti usarli! Allora, chi ha vinto? Sono io! Mi piacerebbe! Mi piacerebbe l'umacone! Però è rimasta un po' di torta per festeggiare la vincitrice! Se vi sbrigate! Facciamo una gara! Katana? Tutti gli altri studenti hanno appeso i loro lavori e sono andati via ore fa ormai! Hai finito? Quasi, Mrs. Moon! Vorrei che il mio debutto artistico fosse praticamente perfetto! Benvenuti alla mostra di beneficenza della scuola superiore per supereroi! Salutiamo la signora Silver St. Cloud che ha concesso di esibire questo capolavoro della sua galleria! Supergirl, fai tu gli onori di casa? Con molto piacere, Presidente Waller! Oh no! Il mio quadro! Ah, che magnifica raccolta fondi! Tutto il ricavato va direttamente alle gemelle doppio azzardo! Ehi, ridatecelo! Ho giusto qualcosa qui nella tasca proprio per te! Criptonite! Qualcuno le fermi! Oh, guarda, Licky! Abbiamo visite! Dobbiamo tirare fuori l'argenteria! Non preoccuparti, l'ho portata io! Passiamo al piano D! Adoro l'acciaio super resistente! Ascoltente! Fermi! Non provare ad avvicinarti! Abbiamo un ostaggio! Il mio quadro! Mettilo giù da sola o ti costringerò a farlo! Vediamo se hai coraggio! Doppio azzardo! Sfida accettata! Mi hai mancata! Ah! Basta! Non voglio diventare una banana split! È un vero capolavoro! Già, per questo volevano rubarlo! È così vivace, così particolare, così imprevedibile! Dove hai trovato l'ispirazione? In realtà, è lei che ha trovato me! Un mantello! Per volare via verso l'alimentare! Un mantello! E potrò sconfirci nel mare! Un mantello! Destino Superkiro! E potrò sconfirci nel mare!